Buongiorno a tutti signori e bentornati sul canale. Dopo il video della scorsa settimana in cui annunciavo il mio trasferimento a Berlino oggi voglio portarvi subito a bordo e fare un piccolo home tour di quello che è il mio microscopico appartamento a Berlino sarà un video leggermente diverso dal solito in cui facciamo appunto un home tour poi vediamo dove sono a Berlino per questi primi mesi e quanto ho pagato esattamente per questo appartamento l'appartamento è essenzialmente all'interno di un residence chiamato Smart Apartments Business in cui sono presenti tutti appartamenti tutti uguali essenzialmente e una volta aperta la porta l'appartamento si presenta così essenzialmente adesso chiudiamo e qui subito all'ingresso c'è un piccolo corridoio con forse il pezzo forte dell'appartamento che è la cucina in cui in due metri quadri nemmeno è praticamente racchiuso tutto a partire dai fornelli, macchinetta di caffè, tostapane, bollitore e poi forse quello per cui ho scelto questi appartamenti ossia la lavastoviglie sì forse per qualcuno è anche superfa ma per me è veramente una manna dal cielo che ci sia perché non ho la ben che minima voglia di mettermi a lavare i piatti e poi qui sopra c'è anche addirittura il microonde con semplicemente davvero italiano espatriato all'estero i sughi barilla a parte la cucina il resto praticamente è tutto quanto in un unico locale in cui c'è appunto questo tavolo che funge sia da sala da pranzo che da scrivania che da qualunque cosa essenzialmente e poi c'è questa che se vogliamo possiamo chiamarla forse la camera da letto e davanti c'è l'armadio e la televisione l'armadio è veramente enorme e praticamente sono riuscito a mettere tutto quanto quello che non vedete qui fuori essenzialmente ci sono poi queste due grandi finestre alla fine che permettono di guardare fuori la vista non è delle migliori sicuramente sul cielo grigio di Berlino allo stato attuale però alla fine entra anche molta luce nel corso del giorno e questo è decisamente poi piacevole alla fine a parte questo qua è rimasta soltanto una cosa da farvi vedere che forse però è la più importante e quasi più grande del resto della casa ossia il bagno il bagno è decisamente grande c'è una doccia piuttosto spaziosa il lavandino e il water non c'è il bidet ma comunque ha quasi tutto quello che è indispensabile almeno e basta essenzialmente tutto quanto racchiuso qui sono 22 metri quadri di appartamento e seppur in ambienti molto ristretti almeno per me c'è tutto quello che serve almeno allo stato attuale considerando anche che non passo molto tempo all'interno di questa stanza se non per qualche passo alla fine e poi per andare a dormire l'appartamento si trova a Prenzlauerberg uno dei quartieri più centrali frequentato dai giovani all'interno essenzialmente dell'anello centrale di Berlino e sono in questa sorta di residence con una serie di appartamenti tutti quanti uguali e pensati e disegnati appositamente per chi lavora la cosa che per me è balza molto nella scelta di questo appartamento per questi primi mesi almeno prima di cercare un appartamento più definitivo è il fatto che qui è essenzialmente tutto incluso chiaramente oltre alle utenze un servizio di pulizia che pulisce la stanza e cambia la biancheria essenzialmente una volta a settimana e oltre a questo un'altra cosa però fondamentale per cui l'ho scelto è la vicinanza con la metro infatti una volta usciti dalla porta residence la metro è praticamente ad un passo e qui ci passano diverse metro e anche diversi tram qui vicino e in una città enorme come Berlino questo permette di raggiungere quasi tutti quanti i posti in relativamente pochissimo tempo utilizzando solo i trasporti pubblici il costo dell'appartamento non è basso ma considerando alla fine i servizi offerti e che ci troviamo a Prenzlauerberg uno dei quartieri più centrali e borghesi tra virgolette se così si possono definire e per soggiorni a medio lungo termine come il mio il costo è di circa 38 euro a notte che equivalgono più o meno a 1140 euro al mese che non sono in generale pochi soprattutto per questo tipo di appartamenti è sicuramente possibile ridurre questo costo ma la competizione almeno per il centro di Berlino per la ricerca di un appartamento è veramente altissima questo a causa di diversi fattori ma soprattutto perché negli ultimi anni sempre più giovani e sempre più società si stanno trasferendo in questa grande capitale per cercare lavoro o anche per aprire una nuova azienda e nel 2021 Berlino è risultata essere la prima città per numero di start up a livello europeo nonché poi dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea che agli occhi di molti ha danneggiato la reputazione anche di Londra per certi versi e gli incentivi economici sicuramente anche ad aprire un'azienda in UK ed è quindi ormai un posto eroso per molti settori sia per cercare effettivamente opportunità lavorative che per aprire una start up ad esempio ed ha ospitato fin dall'inizio e visto crescere diverse aziende ormai evolute come N26 o Zalando all'interno dei numerosi spazi di co-working dislocati in tutta la città e per trovare un appartamento soprattutto negli ultimi anni sta diventando sempre più difficile per cui come soluzione almeno iniziale seppur sicuramente più costosa però penso che questa posizione anche centrale e questo tipo di appartamento per me siano un'ottima soluzione detto questo ragazzi vi saluto adesso devo fare tantissime cose qui a Berlino e arriveranno anche dei video in cui spiegherò che cosa sto facendo nelle mie giornate qui se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube e iscriviti per non perderti anche altri futuri video come questo sentiti libero di aggiungermi anche su Instagram e posterò anche lì dei contenuti sulla mia vita a Berlino e noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video ciao